Ciao a tutti gli amici di Wine TV, sono Otavio Venditto, miglior sommelier d'Italia Ice del 2014 e oggi per la carta di vini di Wine TV sono qui per raccontarvi di un'azienda della Ballet d'Aosta Hermes Pavese con il suo Blanc della Morge della Salle 2015, pre Blanc in purezza andiamo a vedere cosa ci riserva nel calice, un colore vivace, ricco di luce e luminosità già ci fa presagire a una grande acidità e sicuramente profondità al naso ci racchiude le note di montagna, questo bellissimo bouquet di fiori appena accolti, dei fiori bianchi comunque sia una nota anche piacevolissima nel finale di roccia comunque sia che ci ricorda il posto da cui viene prodotto questo vino al palato invece abbiamo un'acidità molto importante, sferzante, ci ricorda un bel agrume con questo finale molto salato che ci ricorda proprio la pietra riconosciuta al naso per lasciarvi poi un bel abbinamento facerebbe vederlo vicino a un bellissimo sottè di frutti di mare Grazie 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 Grazie